Sanremo 2021, le anticipazioni di Amadeus a Domenica in. Albano, Elettra Lambordini e Rocco Casalino i super ospiti di Maravenier La venticinquesima puntata di Domenica in, in onda domani Domenica 28 febbraio, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Maravenier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento Amadeus si collegherà dal Teatro Ariston di Sanremo per gli ultimi aggiornamenti sulla settantunesima edizione del festival che prende il via martedì 2 marzo su Rai 1 Albano Carisi si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi con uno dei suoi grandi successi nel sole Elettra Lambordini, cantante e personaggio televisivo subitissima sui social con oltre 6 milioni e mezzo di follower Sarà protagonista di un'antia intervista con Maravenier, per poi esibirsi con il brano presentato a Sanremo lo scorso anno, musica e il resto scompare Vincenzo De Lucia, comico e imitatore, interverrà nei panni di uno dei suoi personaggi di successo Rocco Casalino sarà presente in studio per presentare il suo libro Il portavoce e parlerà del suo rapporto speciale con le donne più importanti della sua vita, la mamma e la sorella Come di consueto, ampia pagina dedicata alla campagna di vaccinazione nel nostro paese con il Pro Francesco Le Poche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, in studio anche la giornalista Giovanna Botteri mentre in collegamento dalla Florida interverrà la virologa Ilaria Catla, autrice del libro Il viaggio segreto dei virus La regia è di Clavia Hunter Il viaggio in Italia Grazie a tutti.